Qualche collega, se eventualmente rileva un atto, ed è giusto segnalarlo, che non è conforme al nostro regolamento e neanche al buon senso e alla buona educazione, di segnalare chi è il distinguo o almeno il gruppo di appartenenza, per evitare che si dia un'informazione al di fuori di quest'Aula che tutti siamo uguali e che tutti siamo poco propensi a rispettare le regole. E mi sembra che questo non sia nell'interesse di nessuno. Grazie. Ringrazio. Le vorrei dire che io alla conferenza dei capigruppo ho sollecitato e rilascio delle minuzie e mi hanno detto che avrebbero sollevato la questione. Dunque siamo in attesa di una definizione di questo caso. Allora, ora la parola va al deputato Gallinella. Signora Presidentessa, colleghi deputati e deputati, quelli che sono rimasti, nel nuovo Parlamento, uscito dalle urne il 24 e il 25 febbraio scorso, si contano, come si legge dalla stampa, ce l'ho qui, 49 indagati, tutti imputati di reati gravi e infamanti, in massima parte legati a tangentopoli e mafiopoli. Tra questi, ben 13 sono stati già condannati nei vari gradi di giudizio e tre di loro, Salvatore Sciascia del PDL, Umberto Bossi e Matteo Bragantini della Lega, sono stati giudicati colpevoli in via definitiva. Ricordiamo che nella precedente legislatura erano 116 i parlamentari indagati, che in gran parte sono stati condannati. Molti erano indagati già prima delle elezioni e, nonostante ciò, sono stati ricandidati e rieletti. Altro che liste pulite, i pochi esclusi a non essere candidati sono stati coloro veramente impresentabili. Sempre dalla stampa leggiamo che il PDL vanta 30 indagati, segue a ruoto il PD con 8 parlamentari sotto inchiesta, la Lega con 7, l'Udc con 2 e la lista Monti ha la senatrice Lanzillotta, condannata dalla Corte dei Conti, anche in Cassazione, per danno errariale. Il Movimento 5 Stelle, a differenza della descritta realtà, non ha queste situazioni. I cittadini vogliono un Parlamento pulito e, a tal proposito, rivendichiamo una legge d'iniziativa popolare del 2007, avvalorata da oltre 350.000 firme, che non è stata mai presa in considerazione. I cittadini italiani meritano che, nel luogo dove si fanno le leggi, non ci siano persone con queste ombre. Dobbiamo risanare l'Italia ed è doveroso sanare anche questo luogo. Grazie. Sullo stesso tema c'è l'Onorevole Cera. Onorevole Presidente, non le pare onesto e serio che, quando si parla di persone che sono, tra l'altro, assenti, lei rimì il giudizio... Non le pare che una situazione di questo tipo, oltre che ad essere sgradevole, perché ci sono delle persone assenti, può essere tranquillamente rignata ad un altro momento in cui le persone... Non...